Aprete i vostri orizzonti verso una città aperta alle opportunità, alle prosperità, all'immaginazione e all'innovazione, alla varietà culturale e alle emozioni. Sia che siate un uomo d'affare interessato ad ampliare o a trasferire la vostra attività, o un professionista alla ricerca di opportunità di impiego a livello internazionale, la regione di Houston vi offre vantaggi ineguagliabili. Houston è la quarta città più grande degli Stati Uniti, situata in una regione metropolitana caratterizzata da una grande varietà culturale. La popolazione conta 4,8 milioni di abitanti e il ritmo di crescita corrisponde al doppio della media nazionale. Capitale energetica del mondo Sede del centro NASA Johnson Space Center Sede del più grande centro medico del mondo Sede dei campionati di tennis Masters Cup nel 2003 e nel 2004 del Major League Baseball All-Star Game nel 2004 del campionato di football Super Bowl 38 un centro d'arte dinamico una comunità tecnologica in rapida espansione uno dei principali centri finanziari una città che si distingue a livello internazionale in termini di produzione Houston è tutto questo Houston è una città ospitale che ha coattività commerciali desideriamo che i vostri progetti riscuotano successo pertanto vi offriamo i presupposti e i mezzi necessari affinché si realizzino una forza lavoro numerosa e con un'ottima formazione professionale tassi salariali competitivi beni immobili a prezzi inferiori rispetto alla media nazionale servizi pubblici a basso costo con capacità di riserva per gestire un'eventuale eccedenza di domanda ottima infrastruttura dei trasporti incentivi commerciali allettanti un ambiente di lavoro corretto e accogliente Houston offre anche cos'altro gli abitanti di Houston sono ottimisti e motivati al successo da un'indagine annuale è stato confermato che gli abitanti di Houston sono convinti in misura di gran lunga maggiore rispetto all'intera popolazione statunitense che l'impegno manifestato nel lavoro sarà loro ripagato Houston è una città di scelte e opportunità dal centro della città ai quartieri residenziali le attività commerciali fioriscono in 19 aree commerciali diverse dal corridoio energetico della zona ovest di Houston al complesso industriale di Ship Channel fino agli uffici delle pittoresche Woodlands Houston offre l'ambiente giusto per qualsiasi tipo di attività commerciale una fiorente zona commerciale caratterizzata da 5 nuovi grattacieli rende il centro città di Houston un luogo di lavoro stimolante il rapido aumento del numero di loft e appartamenti ristoranti e luoghi di divertimento inoltre rendono il centro città una zona invitante in cui vivere a Houston manodopera e direzione lavorano in perfetta sintonia il Texas offre inoltre il vantaggio di essere uno stato dove si lavora con efficienza i salari nella regione di Houston sono paragonabili a quelli percepiti in molte delle più importanti aree metropolitane i datori di lavoro godono di tassi salariali che consentono loro di essere competitivi in tutto il mondo una forza lavoro che comprende 2,5 milioni di lavoratori in un'area metropolitana di 4,8 milioni di abitanti offre ai datori di lavoro varietà di specializzazioni formazione professionale e culturale necessarie allo sviluppo delle proprie aziende i lavoratori di Houston godono di un grado di istruzione superiore rispetto alla media nazionale a Houston oltre 750.000 adulti hanno conseguito un titolo universitario di primo o secondo livello mentre altri 774.000 sono in possesso di un titolo professionale o hanno comunque terminato gli studi superiori la rete dei trasporti di Houston garantisce un accesso agevole a dipendenti clienti e partner commerciali che viaggiano in città o sono in transito verso altre destinazioni in tutto il mondo dagli inizi della sua attività nel 1979 l'autorità per il trasporto metropolitano della contea di Harris Metropolitan Transit Authority of Harris County ha pressoché raddoppiato la propria utenza triplicato il proprio parco autobus e fissato standard a livelli settoriali per l'impiego di nuove tecnologie la realizzazione di un sistema di comunicazione su rotaia leggera che serve il centro città e il quartiere del centro medico Texas Medical Center è il progetto più recente e più importante creato da Metro Houston è il crucevia di due delle più importanti autostrade interstatali insieme ad altre nuove importantissime vie di comunicazione stradali che servono la regione i servizi di controllo del traffico basati su web aiutano gli automobilisti a scegliere i percorsi migliori per raggiungere le rispettive destinazioni e a tenersi informati sulle condizioni del traffico in tempo reale varie imprese commerciali sono collegate al resto del mondo attraverso il quarto sistema aeroportuale più grande degli Stati Uniti e il sesto nel mondo oltre 43 milioni di passeggeri si spostano annualmente utilizzando i tre aeroporti che compongono il sistema aeroportuale di Houston l'aeroporto intercontinentale George Bush George Bush Intercontinental Airport l'aeroporto William P. Hobie William P. Hobie Airport e Ellington Field 27 linee passeggeri servono 115 destinazioni nazionali e 50 destinazioni internazionali con partenze dall'aeroporto intercontinentale George Bush Diverse imprese commerciali godono dell'accesso ai mercati mondiali e di un collegamento diretto su 22.531 km di canali navigabili interni e tra le varie coste al sesto posto nel mondo per grandezza il porto di Houston si aggiudica il primo posto negli Stati Uniti per il commercio marittimo con l'estero e il secondo posto per il tonnellaggio complessivo il florido settore ricreativo delle crociere offre traversate tra le destinazioni del sud ove statunitense e le famose mete turistiche nei Caraibi e in America Latina Houston serve i settori che si occupano della produzione e della distribuzione di beni a livello internazionale una delle più importanti pubblicazioni commerciali ha indicato Houston come una tra le dodici maggiori comunità internazionali per quattro anni consecutivi Houston è uno dei centri di trasporto su rotaie più attivi della nazione da Houston si diramano dieci principali linee ferroviarie che provvedono al collegamento con varie destinazioni in tutto il paese a Houston i 29.171.312 metri quadrati di fabbricati a uso industriale presentano prezzi maggiormente accessibili rispetto a quelli proposti nella maggior parte dei mercati industriali statunitensi la disponibilità fisica di beni immobili per uso industriale a Houston si colloca tra le dieci più vaste del paese Houston è in grado di offrire un'ottima accoglienza alle imprese gli incentivi includono riduzione sulle imposte di proprietà rimborsi delle imposte di vendita zone imprenditoriali zone di reinvestimento a incremento di imposta esenzioni sulle imposte di vendita riduzione dei controlli contro l'inquinamento obbligazioni sul reddito industriale rimborsi delle imposte di privativa limiti massimali sul valore imponibile della proprietà e fondi per la formazione professionale Houston è il quinto mercato di locali ad usuffici nel paese il costo dei locali è tra i più competitivi nelle principali aree metropolitane la struttura fiscale di Houston consente di garantire costi ridotti per lo svolgimento di attività commerciali un altro dei motivi principali che rendono la regione ancora più allettante è l'assenza di imposte statali su reddito personale le imprese che dipendono dalla disponibilità di risorse energetiche a costi contenuti apprezzeranno l'abbondanza di disponibilità energetica e i costi dei servizi pubblici inferiori alla media nazionale garantiti da Houston oltre 17.000 tra ingegneri, scienziati e personale amministrativo lavorano presso il centro spaziale Johnson Johnson Space Center sede delle operazioni di preparazione e controllo delle missioni di volo delle navicelle spaziali e della stazione spaziale della NASA Il GSI è il principale centro di progettazione ed attuazione della stazione spaziale internazionale e coordina il lavoro e l'impegno di 16 nazioni La reputazione di Houston è fondata principalmente sull'energia ma il futuro delinea un'economia differenziata più globale L'equilibrio economico che ne deriva consente a Houston di affrontare con stabilità le fluttuazioni dei vari cicli industriali a ciò si aggiunge la conseguente prossimità dei principali fornitori e clienti delle numerose imprese che hanno sede a Houston Le società di Houston sono leader mondiali nei settori tecnologici più dinamici quali elettronica, informatica, software, tecnologia biomedica, aerospaziale e dell'energia Su cinque posti di lavoro acquisiti a Houston dal 1988 più di due riguardavano il settore dei servizi Oltre il 30% dei posti di lavoro nell'area di Houston rientrano nell'ambito dei servizi Le sale di riproduzione della realtà virtuale in 3D offrono alle società energetiche di Houston una preziosa visuale sui bacini di idrocarburi del mondo Houston è virtualmente a capo di ogni segmento del settore petrolifero e metanifero Oltre 5.000 aziende energetiche svolgono la propria attività nella regione mentre 44 delle 200 più grandi aziende nazionali private attive nel settore della ricerca e della produzione di petrolio e metano hanno la propria sede centrale a Houston La fertilità delle idee della rinomata comunità scientifica di Houston crea dozzine di opportunità commerciali nel settore della biomedica I settori della specializzazione biotecnologica comprendono assistenza sanitaria, agricoltura, farmacia, scienze ambientali e beni di consumo Houston conta oltre 225 società impegnate nella pubblicazione di software e oltre 1.500 società di fornitura di servizi di programmazione sistemistica Houston è sede di alcune delle più grandi società indipendenti di sviluppo software nel mondo I centri medici di Houston sono tra i più rinomati al mondo Il centro medico del Texas, Texas Medical Center che occupa una superficie di 2.832.776 metri quadrati e all'avanguardia della ricerca del trattamento di tumori e patologie cardiache I dipendenti ammontano a oltre 61.000 impiegati in 42 istituti di cui 12 ospedali, 2 dipartimenti di medicina, 4 dipartimenti di infermeria nonché vari dipartimenti di odontoiatria, salute pubblica, farmacia e quasi tutte le altre professioni correlate alla sanità Oltre 3.400 aziende di Houston commerciano in beni e servizi con 200 paesi A sostegno del commercio internazionale vi sono 77 uffici consolari 40 camere di commercio e associazioni commerciali internazionali 22 banche estere e 80 organizzazioni commerciali e culturali Nella regione di Houston, uno su tre posti di lavoro è collegato al commercio internazionale La città è un principale fulcro di distribuzione delle merci prodotte in tutto il mondo La regione dispone di una solida infrastruttura altamente tecnologica di supporto alla produzione che comprende ingegneria progettazione, elettronica, misurazione e controllo prodotti lavorazione a macchina, lavorazione con utensili e lavorazioni dati e telecomunicazioni Houston è uno dei più importanti centri di distribuzione che trae profitto dal proprio porto, da due aeroporti e da due linee ferroviarie principali nonché da oltre mille aziende di autotrasporti che lavorano per distribuire le merci e i prodotti di fabbricazione nazionale e internazionale Le aziende di Houston lavorano sul futuro Abbondanza di risorse, dalle società di investimento in capitale a rischio alle capacità di ricerca e a una rete collaudata per il trasferimento della tecnologia rendono Houston la sede ideale per la costituzione di aziende e la realizzazione di carriere professionali per un futuro migliore Houston dispone di un'infrastruttura ben sviluppata per il trasferimento al settore privato della tecnologia sviluppata presso il Centro Medico del Texas, Texas Medical Center e il Centro Spaziale Johnson, Johnson Space Center e le Università della zona Le Università di Houston sono a capo della ricerca innovativa nell'ambito delle tecnologie più importanti Due esempi Presso la Rice University, il premio Nobel Richard Smalley e alla guida del Centro per la Scienza e la Tecnologia in Nanoscala Center for Nanoscale Science and Technology Presso l'Università di Houston, il fisico Paul Chu ha fondato il Centro di Superconduttività del Texas Texas Center for Superconductivity Houston è un centro di attività for profit per la distribuzione e commercializzazione dei risultati delle ricerche a contenuto altamente tecnologico Tutte le più importanti università della zona vantano programmi di trasferimento tecnologico per portare la ricerca dal laboratorio al mercato La possibilità di intraprendere studi universitari conseguire un titolo di studio a livello accademico e proseguire il proprio corso formativo è molto elevata con ben 60 atenei quali collegi comunitari, università e istituti Le iscrizioni riflettono la diversità di Houston specialmente presso l'Università di Houston riconosciuta quale università pubblica statunitense al secondo posto per diversità di popolazione universitaria Gli abitanti di Houston amano lavorare ma sanno anche come godarsi la vita Nell'ambito dei servizi medico-sanitari dell'istruzione, della cultura, degli sport e del tempo libero gli abitanti godono di scelte e opportunità di primo ordine dal centro medico del Texas Texas Medical Center alle scuole del centro urbano fino alle arti dello spettacolo Houston ha ricevuto riconoscimenti nazionali e internazionali per i propri successi Oltre 950.000 studenti sono iscritti alle scuole pubbliche elementari, medie e superiori presenti nella zona Il distretto scolastico indipendente di Houston nel 2002 ha ricevuto l'onoreficenza nazionale quale distretto scolastico urbano statunitense che ha compiuto il più grande miglioramento complessivo per quanto riguarda il profitto scolastico degli studenti riducendo al contempo il divario presente tra le diverse comunità etniche e tra gli studenti a basso e alto reddito L'ottimo sistema scolastico pubblico è affiancato da oltre 190 scuole private parocchiali riconosciute nella regione I turisti e i nuovi residenti provenienti da tutto il mondo sono accolti da magnifiche attrattive quartiere accoglienti e basso costo della vita I costi delle abitazioni a Houston sono inferiori di circa il 20% rispetto alla media nazionale e inferiori del 44% rispetto alla media delle 25 più grandi aree metropolitane con più di 1,7 milioni di abitanti Houston ha prezzi accessibili l'onore fiscale ridotto contribuisce a un costo della vita inferiore dell'8% rispetto alla media di altre grandi aree metropolitane Houston è fiera di essere una città plurilingua e multiculturale patria di migliaia di immigranti e lavoratori residenti all'estero proveniente da tutto il mondo le collettività hanno stabilito una ricca miscela di organizzazioni di sostegno per l'istruzione per la cultura sociale e commerciale Folle entusiaste apprezzano il football della squadra degli Houston Texans il baseball degli Astros il basket maschile dei Rockets il basket femminile delle Comets il football femminile delle Houston Energy e l'ok sul ghiaccio degli aereos stadi sportivi di livello internazionale completati da poco o in costruzione riecheggiano la passione della città per lo sport i college e le università della zona competono negli sport principali e godono di attrezzature e centri sportivi di ottimo livello Gli abitanti di Houston godono di una miriade di possibilità di fare shopping dall'elegante all'eclettico la galleria attira visitatori da tutto il mondo per la notevole convenienza degli acquisti e negozetti fuori mano e talvolta insoliti racchiudono tesori unici nel loro genere La zona di Houston è sede di tre delle dieci principali attrazioni che lo stato del Texas offre ai turisti i Six Flags Astroworld il Centro Spaziale Johnson Johnson Space Center della NASA i Giardini Moody Moody Gardens Lo Houston Livestock Show and Rodeo è il rodeo più spettacoloso che si ripeto ogni anno nonché la più grande fiera di animali Le arti sceniche visive primeggiano a Houston Negli scorsi 15 anni la città ha costruito o ampliato otto musei o gallerie d'arte quattro teatri importanti o centri di rappresentazione e 13 musei di storia e scienze Il distretto teatrale Theater District un'area composta da 17 palazzi sita nel cuore della città e sede di otto organizzazioni per le arti sceniche offre alcune delle attività migliori a livello nazionale oltre a eventi internazionali ristoranti, film, centri commerciali e parchi Houston è una delle poche città degli Stati Uniti a godere di rappresentazioni di livello mondiale delle arti sceniche visive opera, balletto, musica sinfonica, musical e opere teatrali il centro hobby di arti sceniche Hobby Center for the Performing Arts è il più recente e più importante luogo di rappresentazione per arti sceniche di Houston La navigazione a vela e la pesca sportiva nel Golfo del Messico sono attività note e comunemente praticate dagli abitanti di Houston La regione è la terza costa a livello nazionale per la pratica della nautica da di porto con una delle maggiori concentrazioni di barca a vela, yacht e imbarcazioni da di porto degli Stati Uniti Gli abitanti di Houston dispongono di innumerevoli spazi per il tempo libero oltre 150 campi da golf 423 campi sportivi 250 aree ricreative e un sistema in rapida espansione di piste ciclabili e passeggiate nel cuore della città l'Herman Park offre la tranquillità di un bosco urbano di un giardino zoologico di livello internazionale Il Memorial Park è uno dei principali centri di attività per giocatori di golf podisti, tenisti, ciclisti e patinatori Gli inverni miti rendono il golf uno sport praticabile tutto l'anno a Houston Gli abitanti approfittano del bel tempo e delle aree verdi negli oltre 500 parchi cittadini e nazionali e negli spazi aperti nelle immediate vicinanze della zona I giardinieri di Houston sono abituati alle rigoliosità del verde che in questa regione dura tre stagioni in questa regione in questa regione in questa regione